Ebbi una visione degli Scrab salvi in libertà, di come essi erano prima che giungessi alla maggiore età. Ora son macellati, triturati e trasformati in una vera prelibatezza, poveri Scrab martoriati per amore della ricchezza. Cosa? 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 Ciao! Cosa? Es esForza? Cosa? 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 Ciao 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 Ok Ciao 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 Ok Ciao 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 Sì, 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 sì. 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 Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì, 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 sì. Sì. Sì, 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 sì. 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 Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. 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 Sì, 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 sì. 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 Atenzione. Sì. 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 Sì, sì, sì. Ciao. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì, 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 sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Sì. Sì, sì. 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 Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì.